Sì, pronto? 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 Francesco, buongiorno. Chiamo dal gruppo Green Power riguardo all'energia rinnovabile per una campagna informativa per i proprietari di casa. Se hanno il tetto a disposizione, possono valutare se avere l'impianto fotovoltaico o di un anticipo zero grazie a incentivi statali quest'anno. Sì, buongiorno. Pronto, signore. Avete mai valutato o non avete valutato i pannelli solari per risparmio energetico? Ma se volete potete... sì, io li ho già valutati. Se volete potete spedirmeli, non ci sono problemi. No, spedire. La valutazione si fa con un tecnico che va a casa sua e valutate insieme la convenienza e la possibilità. Secondo la costruzione della casa, su questo bisogna vedere la costruzione della casa. Ho capito, il problema è che mi sto separando dalla moglie e la casa è intestata a lei. Ah, la proprietaria è lei, ho capito. Sì. È una situazione. Sì, infatti, perché per non pagare meno tasse è intestata la casa alla moglie e quindi adesso non so, vediamo cosa succede, non so cosa fare. Non so, magari lei ha una soluzione per poter salvaguardare via immobile. Non conosco questi dettagli giuridici, un po' i tecnici riguardo al fotovoltaico. Non si sta prego. Noi siamo, abbiamo fatto la separazione dei beni, no? È la proprietaria lei? È proprietaria lei, sì. Adesso non so, magari lei ha esperienza. Cosa succede quando succedono, quando capitano queste cose? Ma lei rimane in casa? Eh, non lo so, perché dopo non so dove andare, no? Ma l'accordo c'è tra di voi perché, guardi, anche all'appuntamento di solito devono essere presenti entrambi i coniugi. Ah, ho capito. Quando valutate con il tecnico. Ma andò anche per i bambini, per l'affido, non so. No, sì, no. Allora è una situazione particolare, no? Lei come mi consiglia? Dice che sia a caso, magari, di stare l'appuntamento allo stesso perché non vorrei che questi consiglighi, magari, che l'appuntamento. Magari sente, magari, magari vuole consultare la moglie e se è interessata anche la moglie, allora la richiamo in un altro momento. Guardi, non so, magari può chiamare lei, non so se voi fate anche mediazione familiare, queste cose. No, mediazione familiare no. Perché magari io le do il numero di telefono di mia moglie e prova a parlarci lei, magari, non so, per far capire. Posso chiedere, sì, posso chiedere anche la sua moglie, sì, posso chiedere anche la sua moglie, se è interessata, allora prendo l'appuntamento con la moglie. Consideri che l'appuntamento dovete essere presenti entrambi. È una persona un po' particolare, non vorrei magari che si faccia peggio, magari, con questa problematica che sussiste al momento, no? Non lo so, per non creare problemi a voi. Eh, infatti, non vorrei che si peggiorate la situazione, no? Sì, Gianluca, Gianluca, posso lasciarmi il numero della sua moglie? Sì, certo. Allora, le lascio. Molto. Sì, posso segnare il numero della sua signora? Sì, no, vuole fare, perché lei ha più, visto che insomma mi ha tradito anche ultimamente, ha più confidenza con gli uomini. Non so se è possibile farla chiamare da un suo collega, che magari... Va bene, faccio chiamare da un collega. Ecco. Tanto sì. Segno il numero della moglie. Sì, perché poi magari, ecco, potrebbe tornarmi utile anche così, magari se questo suo collega ha una bella voce, così magari... Va bene, posso far chiamare da un collega maschio, mi sto scrivendo il numero della sua moglie. Magari, grazie. Allora, il numero è 333... 333... 6-9... 6-9... 6-9... 6-9... Va bene, 3-3-3... 6-9... 9-9... Esatto. Facile. Esatto, esatto. Va bene, lo passo a un collega e allora parliamo con la signora moglie e presentiamo... Il nome della signora, per favore... Il nome della signora, per favore? La signora Giulia. Cognome? Come scusi? Giulia delle donne, il cognome. Delle donne? Sì. L'indirizzo è questo, no? Leandri Novi? Sì, 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 esatto. Va bene, sentiamo la signora. Grazie, buongiorno.